passo falso con l'Alaves, i punti persi con l'Atletico Madrid, quindi comunque un altro passo falso in casa sarebbe grave e sarebbe un peccato non approfittarne con la presenza del derby di Madrid e poi comunque ci permetterebbe di avere una classifica interessante in vista del classico. Esattamente, è una bella infatti quello che diceva Stefano all'inizio della trasmissione, ci permetterebbe di avere questo poi, una bella situazione in vista del classico. E' una bella situazione pure nel senso morale, la morale sarà alta. Sì, morale è alto. Allora, com'è la situazione invece Andrea degli incontri con il Malaga? Gli incontri precedenti sono molto positivi, 35 partite complessive di Liga, 31 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Le tre sconfitte sono nel 2015, mentre le altre due sono state nel 2000, parliamo di 99-2000, 2-1 al Camp Nou, una stagione tra l'altro dove il Barca ne ha fatte di cotte di crude, sconfitte impensabili, tu lo sai benissimo Max. Sospiro. Sospiro. Lo sai che l'avevo rimossa Malaga, Barca-Malaga? Senti, non me lo fai entrare in trans, Massimiliano l'hai. In tram entra. Ma se non ricordo male, dopo, poi il Barca mi sembra che perse anche 3-0 a uviedo, mi sembra. Poi 3-0 in casa col Magliorca. 3-0 in casa col Magliorca. 3-0 in casa col Magliorca. E' succede? Ok. Quello era il Magliorca, credo che fosse il Magliorca post Hector Cooper. Era già andato via. Sì. Si è andato via. Si era già stava a Valencia. Sì, 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 già stava a Valencia, perché lui perse la finale con la Lazio, l'ultima Coppa delle Coppe, 99, e poi andò a Valencia e cominciò il ciclo a Valencia, portandosi io a qualche gioco come... A Valencia. A Valencia. A Valencia. Sì, 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 lui non vinse i campionati. Hector Cooper fece due finali di Champions League. Esatto. Dicevi, Andrea, scusa l'interruzione? E quindi poi l'altra sconfitta è del 70... nel campionato 71-72, l'ultima giornata, l'unico pareggio è del 72-73. Sì. Nelle partite più recenti possiamo ricordare la sfida della scorsa stagione, dove decisa da un gol di Vermalen, tra l'altro l'unico, se non sbaglio, che ha fatto con la maglia del Barca. Bravissimo. Il 4-1 del primo giugno 2013, che permise al Barca di chiudere il campionato con 100 punti, è un 6-0 di Guardiola, al primo anno di Guardiola nel 2009. Ah, sicuro mi ricordo. C'è anche un... oltre all'unico pareggio che c'è stato in campionato, ce n'è uno in Coppa del Re recente, 2-2, nei quarti di Coppa del Re del 2013, dove il Barca fu rimontato da 2-0 e la partita finì 2-2. Il Barca poi si qualificò vincendo 4-2 a Malaga, quindi comunque i precedenti sono positivi, nonostante comunque nelle ultime sfide il Malaga sia stato un cliente davvero scomodo per il Barca, sia in casa sia in trasferta, ci ricordiamo in trasferta 1-0-0, dove non facciamo un tir in porta a settembre del 2014, era il primo anno di Luise Ricche. Sì. E poi 1-0, la sconfitta per 1-0 a marzo 2015 e poi le due sfide della scorsa stagione sofferte. Soffertissime, soffertissime. Senti... Dobbiamo invertire la tendenza. Dobbiamo invertire la tendenza. Petiso, qual è sostanzialmente quello che poi può cambiare questa parte di stagione? È la vittoria contro il Malaga, è un blocco del Madrid o dobbiamo aspettare le forze del classico. Beh, Max, inizia a vincere con il Malaga e prendiamoci questi tre punti che sono importantissimi in vista del proseguo del campionato e per darci morale in vista anche della Champions. Certo, perché è bravo, hai detto bene. Ci dimentichiamo che si va a Glasgow, eh? La Champions League, quindi? Ah, Glasgow andiamo sul Celtic. Però non mi sembra prematuro, Max, parlare già di crocetti oppure di viaggi della Liga. Non ci scordiamo che quando abbiamo fatto il secondo triplete sembrava anche addirittura dopo il classico, già presentemente indirizzata a Madrid della Liga e poi sappiamo com'è finita. Sappiamo com'è finita, ci siamo presi tutto, il campionato incluso, quindi non diamo giudici troppo affrettati, soprattutto in questa fase di campionato. c'è ancora tantissimo tempo, iniziamo a vincere con il Malaga. Vediamo, buttiamo un occhio al derby madrileno, sperando che si incastri bene il risultato con quello che faremo noi con il Malaga. Sperando una bellissima vittoria del Barca, però ripeto, non diamo giudizi. Ancora presto, aspettare quantomeno febbraio, per iniziare a dare un primo quadro, per gestire un primo bilancio, da febbraio poi a maggio, a voglia che si dice tempo. Va bene, va bene. La partita che, quella del 2003, che citavamo prima, no? Eh, Andrea, il famoso 5 a 1 del Malaga al Barca. Mi stavo affacciando al mondo Blavrana. Eh? Non ho capito. Ah, sì. Nel 2003. Eh, che cosa succede? Non ho capito che hai detto, Francesco. Mi stavo affacciando al mondo Blavrana. Ah, ecco, no, no, no. Eh beh, perché era, se non mi sbaglio, era, sto cercando. Era dicembre 2003. 2003, giusto? Era dicembre 2003. Qui diceva la temporada 2003-2004. 2004. Vince il Valencia. Vince il Valencia, il campionato, il Madrid è secondo e noi arriviamo terzi. Sì, con Rijkaard, sì. Giusto? Il rimonta. Il rimonta, il rimonta. Noi arriviamo secondi. A secondi e il Madrid è terzo. Bravo, bravo, sì. Andiamo a vincere 2-1 al Bernabeu col gol di Zidane, poi pareggiò Clivert e poi segnò Ciavi su quel gran passaggio del De Ronaldinho, vero? Eh, sì. Sì, la stagione in cui il Madrid buttò via il titolo, aveva 8-10 punti di vantaggio. Bravo, bravo. La fine dei Galacticos quella era. Esatto. Perse tutto. Sì, 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 sì. E andiamoci a vedere quella maledettissima partita. Io ricordo... Poi rinze con il capello la Liga, perché poi dopo non la vinse per due anni. No, poi la rinze con Schuster. Ma era il 2008 Schuster? 2008. Ah, sì, sì, 2008. 2007 capello era. Sì, capello, 2007 capello. Lì la buttammo noi la Liga. La memoria, qui stiamo andando. Lì la buttammo noi col Tamutaso. La buttammo noi col Tamutaso. Allora, andiamola a vedere quella giornata di dicembre. a Malaga era il quattro... Madre mia. Io mi ricordo ancora dove ho visto la partita in televisione. Ah, 5-1 e diciamo tutti a Rijkaard. Ah, vai alla porta, vai, caccia via Rijkaard, caccia via Rijkaard. Mamma mia ragazzi, 5-1 e la settimana precedente avevamo... Guarda, la settimana precedente avevamo pareggiato a casa 0-0 con il Valladolid. Eravamo in una crisi nera. Sì, eravamo in una crisi nera. Eravamo perso a Via Real 2-1. Avevamo pareggiato a casa a Via Valladolid 0-0 e perdiamo 5-1 a Malaga. E poi perdiamo il classico 2-1. 2-1 perdiamo il classico. A casa. Senza Ronaldinho. Con Ronaldinho era infortunato quel periodo. Segnò Ronaldo e Roberto Carlos e per noi Klaivert. Giocavamo Vittor Valdessa, Rezinger, Puyol. Broncos centrale, Gabri a terzino sinistro. Gerard, Xavi, Cocu e Luis Garzia. Motta e unica punta per Poro Klaivert. Ronaldo, gol dell'Alexis. Fu l'anno che buttammo via anche la qualificazione di Coppa UEFA col Celtic. Sì signor, sì signor, sì signor. Ecco. Sì signor. Va bene, va bene, va bene. Eh ragazzi, questa è quella l'anno là, quella l'anno là. Noi ci possiamo... Quello fu mai perché il Ronaldinho si fece male, stava fuori. E noi avevamo l'unica stella, più o meno. E poi facevamo un grande girone di ritorno poi. Per arrivare a punto secondi, perché poi andammo a vincere a Siviglia 1-0. Vincemmo, sto vedendo, una serie di risultati utili consecutivi. 5-0 all'Alba Sede, 2-1 a Pamplona, 3-1 all'Atletico, al Camp Nou. Vincemmo a Valencia 1-0. Vincemmo a Valencia il 22 febbraio 1-0. La rete di... La rete di... Oh, chi signor? Ma non mi dici chi signor. Io non me la ricordo. No, neanche io. Di Gerard. Go del ex. Troppe di partite vanno passate, Max. Di Gerard. Go di Gerard. C'era Victor Valdessa anche lì in porta. No, il Rustu in panchina. Poi la striscia continuata alla Corugna. 3-2. Era forte quella Corugna, mica era quello da adesso, eh. Il 2000 vinse. Quello... 3-2. Quello che poi in semifinale di Champions League. Col Milan, che batte il Milan. Poi il Barza... Un grandissimo ritorno, perché il Milan ha vinto all'andata. Esatto. Il Barza che vince 3-2 il 7 marzo a casa col Mallorca. Il Barza che va a Murcia e vince 2-0. Poi... Poi... Aspetta, no. Poi vinciamo ancora la Rezio Sedata e ci fermiamo. Questa striscia di vittorie ci ferma il 27 marzo a Siviglia contro il Betis. 1-1. E vi dico che Andrea dice bene, il Madrid perde. Io leggo un Real Madrid o Sasuna, il 11 aprile 0-3. Al Bernabéu. Vabbè. Allora io ti faccio una domanda. E poi nel classico del 25 aprile 24 aprile si gioca, vincemmo 2-1, è quello che dicevamo prima. Massimiliano, cosa fa un Madridista travestito di vampiro su un trattore? Quando è botto. Eh, diccelo tu. Eh? Che fa? E semina il panico. Vabbè. Va bene ragazzi, sono alle 23.07, dobbiamo chiudere. Così sentiamo l'ultimo Sergio che ci fa il resoconto delle partite della Valla a Mano, del calcio femminile del Barzabè e poi ce l'andiamo a nanna. Io saluto il Petisso. Ciao. Ciao Petisso. Che te vada bene. Che te vada bene. Speriamo che funziona tutto bene. Speriamo che nos vada bene. Esattamente. E ci diamo appuntamento al Petisso alla settimana prossima. E Andrea Fabiani anche, insomma, ci porterà le statistiche per la novetta, lì saranno drammatiche. Mmm.